Schena Assicurazioni Generali Garibaldi L'appassionante storia dell'alpinismo moderno tra imprese epiche e affascinanti suggestioni sospese tra cultura e folclore è stata al centro dell'ultima lezione di Angelo Schena presso la sede sondriese di Unitré. L'avvocato e alpinista, appena rientrato da un recentissimo viaggio tra Vietnam e Cambogia, ha illustrato ai presenti, accorsi presso la sala di Via Cesare Battisti, le evoluzioni di una disciplina nata alla fine del XVIII secolo, nella quale fatica e passione diventano via maestra per preziose occasioni di introspezione. L'alpinismo ha avuto una sua evoluzione che è partita da una ricerca che era soprattutto scientifica di sconquista, di scoperta per poi passare attraverso le grandi imprese che hanno voluto dire il raggiungimento delle cime più alte delle Alpi prima e poi man mano si espansa anche in territori extraeuropei, specialmente nell'Himalaya, nel Karakorum e poi ha subito successivamente delle ulteriori sviluppi che sono passati prima attraverso una fase di approccio completamente diverso rispetto al precedente, dove veniva rifiutato e rigettato quello che era il criterio di andare in montagna, che era sofferenza, l'uso di scarponi, grandi fatiche, passando invece ad un piacere estetico da una parte e anche proprio di piacere personale con il contatto fisico con la roccia, senza le grandi levate mattutine e quindi con una fase più di gioco. Un approccio che, negli ultimi anni, è andato incontro a un radicale cambiamento, verso traguardi sempre più estremi. Quindi adesso si va verso un qualche cosa di diverso, che vale a dire gli esplois, che possono consistere o nel concatenamento di diverse vicime oppure quello che attualmente va abbastanza di moda, che è quello che si chiama il frisolo, cioè l'arrampicata totalmente libera su gradi che sono oramai al limite del possibile e cioè sull'ottavo, nono, anche oramai si sta sfiorando al diecimo grado. L'anelito di una scopetta che sia innanzitutto interiore e la voglia di sfidare i propri limiti, secondo Angelo Schena, rimangono l'eterno motore che guida ogni appassionato di alta montagna. È chiaro che ognuno va in montagna per cercare un qualche cosa, si dice che l'alpinismo è la conquista dell'inutile, ma tutti quelli che vanno in montagna vanno alla ricerca, soprattutto di una sfida con se stessi, di una ricerca di quello che è una propria interiorità che poi ognuno raggiunge e ottiene nel modo più diverso a seconda del proprio carattere, della propria personalità, dei propri desideri e dei propri piaceri. Grazie a tutti.